Dal lavoro arrivano le risorse per il sociale. La Svi, azienda di Lucignano, specializzata nella realizzazione di mezzi d'opera ferroviari in occasione del 1 maggio dei suoi primi 25 anni di attività, ha così chiamato a raccolta le proprie maestranze rappresentanti istituzionali del territorio e volontari dell'Auser di Lucignano e della pubblica assistenza di Marciano della Chiana per un'importante donazione, due Fiat Panda nuove di Zecca destinate allo svolgimento di attività socialmente utili. Siamo felici di fare questa operazione, di poter regalare questi mezzi per il servizio sociale che oggi ce n'è tanto bisogno e che quindi l'azienda siccome sta andando bene ha possibilità anche di creare risorse per il sociale, quindi è con grande piacere che in occasione delle celebrazioni dei 25 anni della Svi abbiamo l'onore di regalare queste due panda. Spero che sia solo un inizio ma che in futuro si possa fare anche altre donazioni sempre rivolte per il sociale perché noi in particolar modo ci teniamo a questa operazione visto che facciamo anche altre operazioni per il sociale. Io intendo anche la sociale, quelli dipendenti che teniamo a lavorare. 250 persone è una bella operazione sociale perché hanno famiglie, hanno figli e quindi qui hanno la possibilità di avere risorse per mantenere la propria famiglia.